Buongiorno e benvenuti all'appuntamento del sabato con 7 News, le notizie della settimana. Iniziamo subito con una notizia da Reggio Calabria, sindacati, ok, pagamenti, operai forestali. Ieri Flai, CGL, Fai, CISL, Will, Will di Reggio Calabria insieme con i lavoratori idraulico forestali del Consorzio di Bonifica Basso Ionio Regino, dopo una manifestazione di fronte alla banca Monte dei Paschi di Siena di Reggio Calabria hanno finalmente risolto il problema dei pagamenti arretrati di giugno e 14esima del 2014. Ne hanno questa notizia i sindacati di categoria in una nota. Al tavolo del confronto, oltre alla dirigenza della MPS del Presidente del Consorzio di Bonifica Basso Ionio Regino, Dottor Gian Domenico Caridi, erano presenti i dirigenti della Questura e della Digos di Reggio Calabria, a cui va il nostro ringraziamento, scrivono gli stessi sindacati, per il proficuo lavoro svolto in queste ultime settimane e per il grande senso di responsabilità dimostrato nei confronti dei problemi dei lavoratori, insieme all'azione sindacale che hanno reso possibile la conclusione positiva dell'avvertenza. Nelle prossime ore tutti i lavoratori riceveranno sui loro rispettivi conti correnti il dovuto, spiegano appunto i sindacati, l'impegno resta in campo per quanto concerne la mensilità di luglio. Il Presidente ha annunciato un diretto e di immediato interessamento di concerto con la Regione Calabria affinché avvenga un'apertura di credito che porti al pagamento della mensilità di luglio e delle mensilità a seguire. Sempre ieri Flai, Fai e Willi e di Reggio Calabria hanno tenuto un incontro presso l'Inps con i dirigenti dell'ente, nel corso del quale è stato sollecitato il pagamento della cassa integrazione dicembre 2012. La dirigenza Inps, riferiscono i sindacati, si è impegnata a provvedere al pagamento della stessa per i consorsi di bonifica intorno alla metà di ottobre e a eseguire la liquidazione dei dipendenti di Calabria Verde. Proseguiamo sempre da Reggio Calabria, nessuno stop per i lavori del Corso Caribaldi. La Commissione straordinaria, coordinata dal Prefetto Gaetano Chiusolo e il Direttore regionale per i beni culturali, l'architetto Francesco Prosperetti, hanno valutato di comune accorto la conclusione delle indagini conoscitive sulle condizioni della vecchia pavimentazione, la pidea del Corso, sottostante l'attuale manto di asfalto. A seguito dell'asportazione di larghe porzioni dell'asfalto che ricopriva la pavimentazione in basoli di pietra lavica, si è potuto constatare come la gran parte degli elementi lapidei risulti purtroppo danneggiata dalle lavorazioni a suo tempo eseguite per consentire la migliore adesione del manto d'asfalto. La punzonatura con il mantello pneumatico ha infatti determinato la rottura di molti basoli e il grave danneggiamento della superficie della maggior parte degli stessi, talché per il loro eventuale riutilizzo si renderebbe necessaria una radicale rielaborazione con costi che superano quelli della fornitura del materiale nuovo. Pertanto si procederà alla posa in opera della nuova pavimentazione, così come previsto nel progetto approvato, rimanendo in attesa che la soprintendenza dia le indicazioni sulla specifica individuazione delle aree del Corso Garibaldi in cui si intenderà a riproporre la pietra lavica recuperata. Si sono svolte domenica e lunedì scorso le due giornate organizzate da Libera, l'Associazione contro le mafie dal titolo appunto Libera e beni comuni. Ascoltiamo il servizio di Francesca Martino. La villa comunale di Melito Portosalvo, ieri 21 settembre, è stata protagonista mettendo in prima linea la legalità. Dopo un intenso momento di aggregazione e convialità con i bambini, alle ore 19 inizia il dibattito in cui l'Associazione Libera contro le mafie, in collaborazione con l'Associazione Culturale Fossatesi nel Mondo, l'Associazione Mondoverde Club, l'Associazione Piccola Opera Papa Giovanni, l'Associazione Propentidattilo, l'Azione Cattolica Masella Montebello, Cooperativa Centro Giovanile Donitolo Calabro, CSI Reggio Calabria, Gruppo Scout a Gesci Saline Ioniche, hanno manifestato la loro volontà a dire insieme un no secco ai movimenti illeciti e privi di limpidezza. Il dibattito è stato moderato dalla giornalista Rosalia Salvatore e apre la tavola rotonda Francesco Spanò, referente di Libera di Reggio Calabria, che sottolinea, il senso di questa sera vuole essere un momento di comunità e coesione. Bisogna fare rete insieme, questo è il primo passo per sconfiggere il male che sta martoriando la nostra terra. Il tema di questa giornata è stata dedicata ai beni comuni in cui sono intervenuti il giornalista e autore del libro Terra Venduta, Claudio Cordova, dove ha espresso a chiare lettere la risolutezza e impegno di riappropriarsi centimetro dopo centimetro degli spazi che la mafia gradualmente uccide. Segue l'intervento di Mauro Pasquale, direttore del Museo dello Strumento Musicale, dove sottolinea che la cultura e l'arte non piacciono alle organizzazioni criminali, la infastidiscono, loro vogliono che la gente non sappia. Nell'intervento è palese il pensiero che tutti gli aspetti culturali sfidano chi vuole distruggere la libertà di espressione e dopo l'incendio al museo avvenuto il 4 novembre del 2013 e viva più che mai la voglia di andare avanti nella lotta a rivoluzionare il sistema. Fondamentale in questo caso è il sostegno pubblico. Pensiero abbracciato anche dalla Presidente dell'Associazione Mondo Verde Club, Aurelia Sansotta, che ha ribadito una maggiore sensibilizzazione al tema dell'ambiente da parte delle cariche pubbliche. Sabato scorso è andato in scena al Cineteatro Don Bosco la Commedia Geronsi di Maria Pia Battaglia. Lo spettacolo è stato realizzato dalle ex allieve salesiane di Bova Marina e lo potete vedere nei prossimi giorni appunto presso i nostri canali. Ma prima vediamo qualche anticipazione. Vanno in scena al Cineteatro Don Bosco di Bova Marina le ex allieve salesiane, oggi nonne e madri, cresciute sotto l'ombra di Don Bosco nell'opera voluta e fondata dal suo successore, il beato Michele Rua nel 1898. La Commedia Geronsia è un testo semplice ma dagli importanti spunti di riflessione. Una sottile ma non troppo ironia tipica delle commedie dell'autrice di fama nazionale ma dalle origini bovesi, Maria Pia Battaglia. La bellissima e modernissima sala del Cineteatro Don Bosco, una vera e propria oasi nel deserto culturale, strapiena fino all'ultimo posto con un pubblico caldo ed attento, ha saputo apprezzare l'umiltà della simpatia tutta al femminile, magistralmente diretta dall'unico uomo, il regista Totò Briguglio. Morale della favola? Le ex allieve salesiane hanno stupito tutti, dando l'esempio soprattutto ai più giovani, di quanto sia importante stare insieme nell'amore nei confronti di quei luoghi da difendere sempre e comunque nel tempo, per tramandare alle nuove generazioni la semplicissima voglia di prodigarsi per mantenere vivo e attivo il bene comune, quali sono gli ambienti dell'oratorio salesiano. Luoghi che hanno educato alla vita intere generazioni e che fino a non molto tempo fa fungevano da unico collante sociale dell'intera comunità. A Montebello Ionico, riconoscimento della Commissione straordinaria per l'Associazione Amici dell'Oncologia, vediamo il servizio. La Commissione straordinaria per la gestione del comune di Montebello Ionico, nella fattispecie dottore Muccio Giacari Giliberto, ieri martedì 23 settembre presso la Delegazione Municipale di Saline Ioniche, ha consegnato una targa ricordo alle volontarie dell'Associazione Amici dell'Oncologia di Alzano Lombardo, provincia di Bergamo, che questi giorni sono ospiti del nostro territorio. Si è giunti alla decisione di conferire tale riconoscimento dietro alla segnalazione di numerose famiglie della nostra comunità che da tempo hanno beneficiato dei loro servizi di volontariato. Il comune con questa iniziativa desidera esprimere la gratitudine che la popolazione del nostro territorio ha verso tale associazione, attiva da parecchi anni presso i dei ospital oncologici di Alzano Lombardo, Piario e Seriate, dando senza scopo di lucro una calda accoglienza alle persone e alle loro famiglie che si trovano a dover affrontare l'impegnativo cammino delle cure oncologiche. L'obiettivo degli Amici dell'Oncologia è quello di contribuire all'umanizzazione dell'approccio oncologico offrendo un punto d'ascolto telefonico, gestendo una cassa di accoglienza per i pazienti e i loro familiari e trasportando gratuitamente i pazienti oncologici dal domicilio alle strutture sanitarie. Questi servizi svolti dall'associazione, che si avvale anche dell'opera delle due volontarie nostre ospiti, sono sicuramente di grande valore sociale, ma ancora più ci toccano perché molte persone del nostro comune ne usufruiscono da anni con grandi benefici sulla loro salute fisica e morale. Proseguiamo con la cronaca. Operazione sequestra in Italia da parte della Guardia di Finanza. Arresti e perquisizioni al nord coinvolti calabresi, l'attività svolta con la direzione della Procura di Brescia ha permesso di disarticolare un pericoloso gruppo criminale sequestrando in Italia e all'estero del denaro società ben immobile e immobili per oltre 5 milioni di euro, volti a compensare tra l'altro il danno erariare causato. Vediamo a questo proposito il servizio. I carabinieri e i militari della Guardia di Finanza di Brescia stanno eseguendo in Lombardia un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni e sequestri nei confronti di persone per la maggior parte di origine calabrese, ritenute responsabili a vari titoli di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, truffa, usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, detenzione e portabusivo di armi. L'attività svolta con la direzione della Procura di Brescia ha permesso di disarticolare un pericoloso gruppo criminale sequestrando in Italia e all'estero denaro società, beni mobili e immobili per oltre 5 milioni di euro volti a compensare, tra l'altro, il danno erariale causato. Al termine dell'attività investigativa, le forze dell'ordine hanno arrestato 14 persone, 8 in carcere e 6 posti agli arresti domiciliari. Si tratta di cittadini italiani residenti prevalentemente nel Bresciano e notoriamente vicino ad ambienti di stampo mafioso, dediti alla gestione di aziende operanti nel settore edile, che nel periodo preso in considerazione avrebbero consentito agli amministratori di fatto di accumulare ingenti disponibilità finanziarie, tramite condotte usurai ed estorsive ai danni di imprenditori lombardi operanti nel settore edile. Il gruppo aveva la disponibilità di numerose armi da fuoco, utilizzate per la riscossione violenta dei crediti maturati nei confronti degli imprenditori usurati. Grazie al sistematico ricorso a minacce e vari atti intimidatori, come danneggiamenti ed esplosioni notturne di colpi di arma da fuoco, all'indirizzo di uffici o esercizi pubblici. Nel corso dell'indagine sono stati posti sotto sequestro beni per 5 milioni di euro. Continuiamo con la cronaca. Traffico di cocaina arrestato il pericoloso latitante Rocco Pasqualone. Arristato, appunto, Rocco Pasqualone di 45 anni, di Tauria Nova, dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria. Era ricercato dal giugno scorso per scontare una condanna a 14 anni, 3 mesi e 19 giorni di reclusione per traffico internazionale di droga. Questo è il servizio. Ricercato dal mese di giugno scorso deve scontare 14 anni, 3 mesi e 19 giorni di reclusione. Va in manette durante l'operazione dei carabinieri insieme ad altre 3 persone, Rocco Pasqualone. Un latitante pericoloso di notevole spessore criminale, ritenuto intraneo all'articolazione territoriale della cosca Andrangata Moleppi Romalli di Gioia Tauro. La sua storia criminale è fatta di numerosissimi arresti. Tra questi si ricorda il suo coinvolgimento nell'operazione Doppio Canale del 2012 della DDA di Catanzaro e l'arresto per l'omicidio del medico Ioculano Luigi del 25 settembre del 1998, anche se per entrambe le vicende giudiziarie Pasqualone è stato poi assolto. Il provvedimento di esecuzione per il quale il latitante deve scontare oltre 14 anni di reclusione scaturisce da un'operazione di polizia dell'ottobre del 2005, con cui la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria aveva disposto la cattura di 18 soggetti facenti parte di un'organizzazione di trafficanti di cocaina che faceva capo alla cosca Moleppi Romalli. L'organizzazione che aveva la base operativa Gioia Tauro si riforniva di cocaina attraverso propri emissari in alcuni paesi dell'est europeo, in particolare in Bulgaria dove la droga arrivava dal Sud America. Le sostanze stupefacenti occultate all'interno di palais contenenti legname veniva poi smerciate in Calabria, Lombardia, Sicilia e Lazio. L'attività investigativa che ha portato all'arresto del latitante è stata incentrata sui controlli dei familiari del ricercato, il cui coinvolgimento nella gestione logistica del latitante è apparso da subito evidente. Proprio seguendo gli spostamenti della compagnia rumena, i carabinieri hanno individuato l'abitazione di Contrada Caridi a Gallina, di Reggio Calabria, dove aveva trovato rifugio il ricercato, risultata di proprietà di un italiano titolare di un'impresa per cui lavorava proprio la compagnia del latitante. Acquisiti tali inequivocabili elementi alle prime luci dell'alba odierne, è stato realizzato un intervento nell'abitazione oggetto di osservazione. Il latitante è stato trovato a letto con la compagna, non aveva con sé armi, non ha opposto resistenza e nonostante avesse con sé due documenti di identità contraffatti, ha subito declinato la sua vera identità. In un altro corpo di fabbrica dello stesso comprensorio invece è stato trovato il proprietario dell'immobile e sua moglie che dormivano. 774 migranti sbarcati a Reggio Calabria, arrestati quattro scafisti. È giunta nel porto di Reggio Calabria la nave militare San Giusto con a bordo 774 migranti, di cui 649 uomini, 41 donne e 84 minori di nazionalità medio orientale e dell'Africa centro occidentale e settentrionale, arrestati quattro presunti scafisti. Questo è il servizio. Baccia il suolo Reggino appena mette piede sul molo, come se volesse ringraziare il cielo per essere riuscito assieme ai tanti che come lui cercano di sfuggire alle guerre. Violenza e povertà a superare forse la prova più importante della sua vita. Accanto a lui altri migranti escono a piccoli gruppi dalla nave militare San Giusto dopo i consueti controlli da parte della Polizia e della Task Force Sanitaria. Alla fine sono 649 uomini, 41 donne e 84 minori, presumibilmente di nazionalità medio orientale e dell'Africa centro-occidentale, soccorsi da una macchina ormai perfettamente funzionante ed abituata a consistenti sbarchi di immigrati. Discrete le condizioni di salute degli immigrati, eccetto per una ventina di casi di scabbia rilevati dai medici. Come succede ormai da un po' di tempo, la Prefettura ha attivato le procedure per il primo soccorso e l'accoglienza con i rappresentanti di istituzione, forze dell'ordine e protezione civile. Una quarantina di immigrati, presumibilmente familiari di quelli che necessitano di cure sanitarie, sono stati avviati nella struttura dello Scatolone, a sud della città. Per gli altri si è provveduto al loro trasferimento in altre regioni italiane, secondo il piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno. Quattro persone, presunti scafisti, sono stati fermati dalla Polizia e condotti in questura per ulteriori accertamenti. Lo sbarco a Reggio Calabria fa capo all'operazione Mare Nostrumo, iniziata il 18 ottobre 2013 per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria in corso nello stretto di Sicilia, dovuto all'eccezionale afflusso di migranti. L'operazione consiste nel potenziamento del dispositivo di controllo di flussi migratori, già attivo nell'ambito della missione Constat Vigilance, che la Marina Militare svolge dal 2004, con una nave che incrocia permanentemente nello stretto di Sicilia e con aeromobili da pattugliamento marittimo. Postiamoci a Melito Portosalva, aggredito il segretario PD. E' stato aggredito fisicamente il segretario della sezione PD di Merito Portosalvo, Tino Laganà, nel corso di un coordinamento dei segretari dell'Anea Grecanica e degli amministratori per discutere sulle eventuali candidature che la stessa area potrebbe esprimere. Coordinamento convocato dalla segreteria provinciale. Nel corso dell'incontro si è presentato presso la sede democratica meritese un ex tesserato, il quale si è scagliato contro il segretario Laganà, colpendolo violentamente alla nuca. Tanto da rendersi necessario il passaggio del pronto soccorso per effettuare le dovute medicazioni e gli accertamenti del caso. Questo gesto vile è accaduto, afferma lo stesso segretario Laganà, e anche figlio di chi accende gli animi nel nostro territorio anziché privilegiare la via del dialogo costruttivo. Pertanto invito tutti ad una serena riflessione in casa propria evitando di fomentare politiche giornaliere che tendono purtroppo a sfoggiare in gesti di questo tipo. L'aggressore è stato denunciato dalle stesse forze dell'ordine. In chiusura sono iniziati giovedì 25 settembre i quattro giorni dedicati ai festeggiamenti dei Santi Cosme Damiano a Masella di Montebello Ionico. Abbiamo sentito il parroco Don Giovanni Gattuso e il saggiardote di Masella a Montebello. Li ascoltiamo nel servizio. Ci troviamo a Masella con Don Giovanni Gattuso, parroco della chiesa di Santi Cosme Damiano. Si sta preparando i festeggiamenti per festeggiare i Santi Cosme Damiano. Ci vuole spiegare il programma sia religioso che civile? La comunità di Masella è in festa proprio perché festeggiamo i patroni di Masella. Per quanto riguarda i festeggiamenti civili posso dire che avremo quattro serate. Avremo giovedì sera la serata di un salone poetico con tanti poeti che verranno a raccontarci la poesia in vernacolo. Venerdì sera invece avremo una serata di karaoke, musica, animazione, balli e anche col famoso organetto e tamburello perché qui la gente è molto legata alle tradizioni. Sabato sera avremo un musical si promessi sposi del gruppo teatrale Grange di Arangea. E poi concluderemo domenica sera con una grande festa con la Sagra della Guastedda, un prodotto tipico di questo luogo e in più una serata di musica etnica con Alma Greca. E poi concluderemo verso mezzanotte con i tanto aspettati fuochi d'artificio e a Ballata Ruscecco. Questa chiesa si è costruita negli ultimi anni e si è inaugurata nel 1998. Qui ancora è rimasto l'edificio della vecchia chiesa che non è di proprietà della parrocchia o della curia bensì dell'Aspi, dell'azienda sanitaria provinciale. Allora tanti anni fa negli anni 50 c'era un piccolo ospedale. Poi la parrocchia fece richiesta di avere dei locali per la chiesa e così avvenne l'Aspi diete incomodato gratuito quei locali che poi furono adibiti a piccola chiesa. Certamente rimane in ricordo la gente ancora affezionata e legata a quella piccola chiesa che anche se oggi è chiusa, però la gente ricorda, fa memoria storica di tutti i bei momenti che hanno vissuto anche insieme ai parroci che ci sono susseguiti nel tempo. Oggi la gente è contenta perché si ritrova una nuova chiesa anche se abbiamo tanti lavori da fare però non ci scoraggiamo perché il Signore non ci fa mancare la sua provvidenza e poi la gente, devo dire, è molto semplice, molto buona e contribuisce al mantenimento della propria parrocchia. E questo è tutto. Ci rivediamo alla prossima edizione di 7 News. Arrivederci.